Questo è quello che siamo riusciti a fare e sono soddisfatto, sono soddisfatto da lavoro e da tanto anche in questa lotta, quello che succede nel carcere, in Italia, penso di dimostrare, di aver dimostrato le scelte fatte su questo testo. Grazie alla società, grazie a tutti i giocatori, spero che possiamo continuare così, grazie. Sono intervenuti, sono qui, anzi, i pedagini saliti sul caldo che Ilario Casta e Mario Polauti Dovevano esserci anche il padre Alfredo Novellino e il senso.